Roma rievoca bellissimi ricordi di un grandissimo playoff, di una stagione fantastica, andiamo giù pieni di motivazioni, pronti a una grande battaglia, purtroppo abbiamo la brutta notizia che non avremo White, che è da una settimana che ha un brutto virus influenzale, è una cosa non semplice, i nostri medici stanno facendo ulteriori esami, lunedì farà ancora l'altro esami in ospedale, però per noi è una bella mancanza, detto ciò però insomma ho visto i ragazzi veramente pronti alla battaglia e cercheremo di farcela in tutte le maniere. A Kaukenes bene, ha fatto due allenamenti perché è la verità che poi dopo domenica e martedì avevano giocato la Coppa dove purtroppo non poteva giocare e quindi siamo rientrati mercoledì, noi ci siamo allenati venerdì, sabato e domenica, ha messo dentro altri tre allenamenti e di sicuro insomma ho giunto i due della settimana scorsa, piano piano sta cominciando a capire i compagni, a conoscere i compagni, a prendere ritmi ecco. No addirittura il 26 torniamo a Pesaro, poi il 30 in campo insomma quindi no le feste non esistono come siamo già abituati a fare però questo non è un problema ecco quello che ci interessa è la salute e purtroppo in questo momento con White non ce l'abbiamo e continuare il nostro percorso di crescita seppur queste cose danno parecchio fastidio perché naturalmente rallentano il percorso, il cammino di un gruppo che stava cominciando a dimostrare veramente di essere davvero in grande crescita. Grazie a tutti.